Salve a tutti ragazzi, sono david96, siamo tornati su The Destroy All Human, in questa missione, vediamo che succede, che l'hanno preso, non pensavo che era indistruttibile questo alieno, Crypto invece, che succede ora, penso che non è morto, ma infatti, l'hanno rapito. E' un'azurda, questa missione. Oh, grazie, grandi labi frontali, ma dove sono in spazio, sembra come un tipo di laboratorio primitivo, un cazzo, e gli uomini, sono stati preso contro la mia wille, e nessun modo divertente. Oh, oh, mi toccano, mi sento così freddo, ok, ok, è tutto, vado da qui, ora! Wow! Infatti, sono andato, sono addormentato. Non allettare l'esercito, trova... Fuggi dagli umani. Ah, se ne ricordo ancora i tasti. Ok, violiamo il sistema. Ok... Ok... Io potrei prendere a questo, e a questo, e a questo... e a lui. E a lui. E a lui. Oh, Krypto, sei vivo! Certo che io sono vivo! Mi prende molto più di un trama di c***o per fermarmi! Trova la tua arma! Cosa è questo? Oh, no! Non è successo nulla! Ahahahahha! Little green men! Not again! Colorblind morons! Die P-brain! Hey, where's the... What did you do with my clip, monkey boy? Phew! So much for wholesale carnage! I guess I'll just have to settle for ripping your limbs off one by one with my bare hands until I find it! With my bare hands... E quindi? Abbiamo perso il nostro camuffamento? C'è un video di strema ammuffato, è un po' qui, è un po' qui. Un'altra città! Perciò non essere i commies in Uniontown, o poter? Buono, questa informazione ci aiutà ai nostri spettatori. Scannare più lavoratori. Detecto la presenza di un jetpack di Furon. Ci dovrai necessitare nella sua scuola. Questa è la sua scuola. La sua scuola è iniziata a una strada vicinale. C'è l'acqua in tutti quei crati di Monroe? C'è niente di quello che vecchia abbandonata. C'è l'acqua? Excelente. Stai scannando i lavoratori. Sono così lontano. C'è lontano. C'è lontano. Armquist è un ero. Hoi jackrock. Hoi ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, ho va vedere. Sì, è vero. Come in. Ha! Space freak! Marilyn, Marilyn, Marilyn. Oh, damn, I better not forget that password, although they'll never let me on that barge. Hey! The human military industrial complex is apparently using a marine barge for surface transportation to and from the island. You may be able to use it to get to the island. I don't know how to get to the island. Focus! Use your... What's going on? You talking to me? I hope Lorraine don't find out about me and her sister at the wedding. Boy, what a dish she was. I really ought to get up to Jersey and see Uncle Tony this weekend. What's going on? I don't know. 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 I ain't taking you nowhere without proper authorization. Let's go. Take me to the island, you overhydrated lump of protoplasm or I'll knock you three steps down the full chain. That's gonna be the worst Jersey accent I've ever heard. Guards! We got a commie spy here! Come quick! Come quick! I don't know. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I ain't taking you nowhere without proper authorization. Who do you think is the superior thespian? Lana Turner or Veronica Lake? Better go back and get your orders straight, Private. If you don't want to wind up court-martialed. Marilene, will you take me to the island now? Now you're talking. Welcome aboard soldier! That's right. Let's go with the spazial machine. Sì Questa volta lo facciamo a você? Guarda che maniera Arra touch! No. 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 No! No! No. No! No. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info inesmerism onde viene nei Vessere il vostro locale. Prost. Questa è lì? Questa è lì? Ti muocello? Ti muocello? Ti muocello? Ti muocello? Oh, che c'è stato? Ok C'è un bel pò Come on, c'è un bel pò C'è un bel pò C'è un pò C'è un pò no Scazzano tutto? Oh, posto, anche questo è fatto, mia, del 300% In centro te basta l'isola, devi dare indagano? Non è buon ferro, adesso... Un'upgrade più, no? Come se la tua scuola o le tue abilità? Potenzializzare tanto il disco volante, di 5-2-4, o stoniamo comunque poche munizioni Facciamo questo Va bene ragazzi il video finisce qui Lasciate un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo nella prossima puntata Ciao 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 Ciao